Ciao, sono Cinzia e sono la base dell'estudianto d'inglese della Giacquine. Mi dici una scioglie lingua in inglese? Ice cream, you scream, we all scream for an ice cream. Tutto qua? Sì. Ah, ok. Questo passa in commento. Mi dici tre motivi per cui bisognerebbe studiare la lingua inglese? Allora, perché lo sai benissimo che non basta parlare italiano molto lentamente per farti capire, perché così potrai smettere di annuire quando all'estero ti chiedono quanti anni hai e perché Giacquine. Bye, see you! Basta? Basta. Basta? Cosa c'è da dire di più?